Buongiorno ragazze, mi chiamo Rebecca Burjui e sono Master Brilber. Oggi vi voglio svelare un segreto, come ottenere una perfetta manicure con questo prodotto che è indispensabile, che si chiama Cuticle Remover Gel. Ha una formula innovativa che ci permette in meno di 3 minuti di rimuovere delicatamente le cuticole. Inoltre un altro suo beneficio è che non altera il pH della pelle.